Il boss è che è il passaggio La prossima è una canzone per la quale potremmo iniziare a rimanere sul balk Ma noi la facciamo lo stesso Ci piace? Presence Peter, hold your dreams Anche lui dice che potrebbe rimanere, che si possono staccare ma... Ciao a tutti Eh, 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 eh Grazie a tutti 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 Grazie a tutti